Manager! Alla fine l'ho scoperto! Scoperto? Scoperto che cosa? Guarda, guarda questa! Eh? La mia... la mia ragazza è riuscita con molta fatica a scattare questa foto! Ah sì? Ma, scusa, ma da quando è la ragazza? Non è il momento di parlarne! L'importante è che questo prova che si tratta di una spia! Bene, e allora quello che sta parlando con Fujishiro è? Quando lo sapremo avremo risolto la questione! Ah, ma questo è Aramakitame! Aramaki che? Aramakitame, il capitano della Wakisaka Ichu, la squadra con la quale dobbiamo giocare! Ma certo, adesso capisco! Quell'Aramakitame ha chiesto a Fujishiro di spiarci! Non mi dire! Ma cosa dici, Santa? Se mi incontrassi lì con Fujishiro, nonostante tutto, anch'io lo saluterei! Capitano, direi che in questa foto si stanno salutando! Invece di stare il tempo in pettegolezzi, perché non lo usi per pulire i palloni? Mitsuno! Ehi, cazzo Nazzuri! Guarda questo! Scusa un momento, aspetta, Mitsuno! Randy, me l'ha dato Oma per te! Sono appunti sui nostri avversari Spera che ci siano utili per il torneo di quest'estate Certo che lo sono, e più di questa stupida foto Vado a fare spese, serve qualcosa? Ah, vengo anch'io, voglio degli scarpini per l'allenamento Qualcun altro che ci aiuti con le buste? Vengo io! Vengo anch'io! Uno è sufficiente Io, io che mi ero offerto perché pensavo che sarebbe venuta anche Miyuki Hai detto qualcosa? No, niente Che tipa, io devo fare la spesa e lei va a comprarsi le cose per sé Ma vedrai che uno di questi giorni con la mia superpotenza ti dò un po' Accidenti! Scusa, non l'ho fatto apposta, mi stavo usando stirato un po' La scatola dei miei scarpini Scusami, te la sistema subito No, non la toccherai Calma, capitano Ma le scarpe non è successo niente, puoi pulirti il naso Ecco, se ti va bene puoi pulirti con questo Oh, capitano Wow, è fritto, lo sguardo è nebbiato Allora, Santa, c'era tutto? Ehm, per oggi possiamo andare via Cosa ti è successo, Santa? Le cose si sono complicate un po' Questa faccia non mi è nuova Era nella foto con Fujishiro Certo, lo dicevo io che questa faccia non mi era nuova Era ma che non so cosa Anche voi giocate a calcio? Sì, siamo della Sakura Josui Della Sakura Josui? E perché gironzolate da queste parti invece di allenarvi? E domani giocano contro di noi? Che presuntuosi E quello lì là dietro, anche lui è dei vostri? Sì E allora, guardate come è ridotta la scatola degli scarpini E adesso come la mettiamo? E qual è il problema? È solo la scatola Ma sì, non è niente Tra l'altro è successo senza volerlo C-come? E va bene Ti chiedo scusa da parte sua Accettalo, per favore Cazza Mazzuri, tu non hai proprio motivo di chiedere scusa Insomma, non è che io non voglia scusarvi Ma dovete stare più attenti Dovete fare più attenzione La nostra squadra non è solo da competizioni locali Bene, in questa prima fase giochiamo soltanto al 30% Quindi se giocherete bene forse domani si vedrà una partita alla pari Ma smettila La Musa Shinomori ha dovuto giocare al 100% per poterci battere Per cui se voi giocherete al 30% non vincerete Le partite non si vincono solo con il nome della squadra Andiamoci Mi meraviglia Di solito sei molto timida Invece hai avuto il coraggio di dire quello che si meritavano Ma attenzione con me Che anch'io quando mi ci metto Santa, sei ancora convinto che questa gente che ci sottovaluta così Abbia chiesto a fuggiscire o dispiarti? Si sa che sbagliare è umano, no? Si, per il tuo atteggiamento non è normale Si, per il tuo atteggiamento non è normale